Cosa ne pensa di un referendum pari monopattico? Sono perplesso, ne ho parlato settimana scorsa, settimana scorsa ho visto Anidalgo a Parigi e mi ha raccontato di questo referendum. Sono perplesso solo su una cosa, e cioè mi chiedo se votano l'8% dei cittadini. È meglio che decidere se l'8% dei cittadini o l'amministrazione e il sindaco e tendo a pensare che allora è un tema che dobbiamo affrontare noi. Se fosse un referendum molto molto partecipato cambierebbe. Però ecco, non so se è giusto per tutti i cittadini dare la decisione almeno del 10% dei cittadini. Dopodiché è evidente che il dibattito c'è, ci penseremo nelle prossime settimane e mesi. Se lo farebbe anche lei? Un referendum? No, un referendum no, ripeto, se non avessi contezza del fatto che poi vanno in tantissimi a votare no.